Mister, giovedì sera avevi detto c'è una gara di ritorno, ci aggrappiamo quella, alle nostre certezze, alla nostra forza, Lentella questa sera ha fatto una partita super. Sì, complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una partita, quello che dovrebbe essere sempre Lentella, con questo furore, con questa cattiveria, perché non potevamo essere quelli dell'andata, troppo brutti per essere vero. Sono stati giorni pesanti, però sapevamo che avevamo valori per ribaltare questa partita, i ragazzi hanno dato tutto, mi dispiace che poi abbiamo compromesso un po' con il 3-1, però penso che non abbiamo concesso praticamente nulla al gubbio, anzi forse meritavamo di chiudere la prima partita. Che cosa ti porti a casa questa sera, qual è la tua fotografia di questa serata? E poi insomma la squadra è stata intensa fin da subito e la cosa impressionante è che ha retto per tutti i 90 minuti questi ritmi. Sì, abbiamo preparato questo tipo di partita, di essere aggressivi, di partire subito forte, credo che poi le risposte sono state più positive. Abbiamo speso tanto, abbiamo tanti giocatori fuori per infortunio, però questo fa parte del gioco. Si sentono tante chiacchiere in giro, poi tutti si sentono giudici e danno sempre pareri e questo sinceramente è una cosa che dà un po' fastidio. Perché poi siamo tutti giudici dei lavori degli altri, della vita degli altri, però poi noi qua ci siamo tutti i giorni, sappiamo quello che viviamo, sappiamo il tempo che ci dedichiamo e sappiamo pure che tutto quello che abbiamo fatto non ce l'ha regalato nessuno. Questa sera la qualificazione ce la siamo guadagnati sul campo come è giusto che fosse. E domani si scoprirà il prossimo avversario? Sì, domani scopriremo contro chi giocheremo. Ovviamente ho visto che sono rimasti in ballo squadre e piazze fortissime, quindi sicuramente sarà un sorteggio dove ci sarà sicuramente una squadra molto competitiva. Ma stasera abbiamo dimostrato di esserlo pure noi.